Buonasera e buon sabato! 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 Taglia unica per quanto riguarda questo pantalone! Con l'elastico in vita che ha una vestibilità! Ragazza! Ma un tessuto! Mamma mia! Ma la zampetta! Ragazze! Mi supera l'ombelico! Per quanto riguarda l'altezza del punto vita! È comodo! La lunghezza del pantalone è perfetta! Ragazze! Non ho nemmeno dovuto fare l'orlo! vi ricordo che sono circa 1,66 m riguardo all'altezza tornando a parlare della blusa fresca fresca perché rimane molto molto morbida perché ha lo scollo a V che volendo se vi piace si buple si potrebbe anche aprire perché qui è soltanto la manicuccia di questo blusetta in tessuto di Georgette è un tre quarti appena appena con un risvoltino la manica rimane morbida proprio come tutta quanta la blusa che è fantastica aspetta ve lo faccio vedere poi dopo vi dico pure che colori c'è che è fantastica anche da mettere dentro guardate che carina quanto riveste sta maglia ma quanto sono belli questi pantaloni poi ragazze comodi 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 faccio vedere una cosa ecco guardate elasticizzato perfetto allora la blusetta che indosso ragazze ce l'abbiamo disponibile al momento e nella versione nera e nella versione bianca c'era anche nella versione bordeaux come questa che porto io perché questa è una versione bordeaux e ce l'avevamo disponibile anche nella versione marroncino bruciato caffè e quanto riguarda le colorazioni di questa blusa che abbiamo ancora a disposizione c'è la versione ottanio la versione caffè la versione bianca e la versione nera a breve perché già rimandate in ordine la versione bordeaux come questa qui che indosso io che vi è piaciuta tanto questa mattina tre ragazze sono presa e basta detto ciò ragazze vi ricordo che le nostre scarpe della collezione autunno sono in promo a 15,99 euro questi modellini mi raccomando passate il prima possibile perché non so gli altri scarichi già ve l'ho spiegato nella stories di ieri non so come se riusciremo a mantenere queste promo per le scarpe che arriveranno mi raccomando quindi se vi serve una scarpetta al volo venite passate venite a vedere perché questo prezzo merita e basta a questo punto io vado ci vediamo lunedì sulle nostre pagine instagram facebook youtube tiktok rgnlovers perché stiamo continuando a postare le foto con tutti quanti gli articoli a questo punto io vado rgnlovers cioè buona domenica vi aspetto lunedì a partire dalle 9.30 ciao